Simone Auriletto, termine di Piacenza per Vercelli 0-0. Simone, una partita molto combattuta contro un avversario molto complicato da affrontare. Come commenti la sfida di oggi? Credo che sia un buon punto. Loro sono un'ottima squadra. Nel primo tempo hanno meritato di più, hanno tenuto meglio il campo di noi. Nel secondo tempo forse abbiamo avuto qualche occasione in più noi, potevamo anche sbloccarla. È stata una partita molto giocata sulle seconde palle. Credo che alla fine sia un partito un po' a rilento, ma alla fine la nostra prestazione l'abbiamo fatta. Quindi il punto è un risultato giusto perché, ripeto, nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre palloni importanti per sbloccarla. Però va bene così, guardiamo subito la prossima partita che giochiamo tanti giorni. Ci sarà subito l'occasione di scendere in campo di nuovo perché questa settimana saranno di nuovo ricchi rinpegni. Sì, giochiamo di nuovo ogni tre giorni, quindi dobbiamo ricaricare subito le batterie e cercare sempre di fare prestazione dopo prestazione.